Ottima musica e buon cibo sono ingredienti perfetti per le serate estive. È quello che hanno pensato anche gli organizzatori di Barga Jets 2016. I primi tre appuntamenti della manifestazione, infatti, saranno dedicati proprio al binomio musica e cibo all'interno del centro storico di Barga, in tre piazze corredate da ottimi ristoranti. Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta in comune a Barga, dopo i saluti istituzionali, Alessandro Rizzardi, direttore artistico della manifestazione, ha illustrato nel dettaglio gli appuntamenti. Faremo tre concerti in tre diverse piazze di Barga, abbinate appunto abbinando il cibo e la musica, quindi questo sarà l'inizio del festival. Poi il 21, che è di agosto, con Barga in Jets, quest'anno faremo, oltre che il pomeriggio, come sempre, una giornata con tanti gruppi di jazz e una street band, ma quest'anno continueremo anche dopo cena fino a mezzanotte. Quest'anno poi avremo un ospite importantissimo, che è Franco D'Andrea, un personaggio storico del jazz italiano, un grande pianista conosciuto a livello internazionale, che sarà appunto l'ospite d'onore e a cui sarà dedicato il concorso di composizione e arrangiamento per l'orchestra jazz. Fondamentale per il nostro festival è l'aiuto che ci danno i nostri volontari. Quest'anno moltissimi, molti giovani, che sottolineano appunto il rapporto che c'è molto stretto tra il festival e la comunità. Quest'anno la manifestazione compie 30 anni. È stata creata da Giancarlo Rizzardi e dal direttore Bruno Tommaso, che proprio quest'anno tornerà a Barga in veste di musicista. E nonostante le difficoltà, si tratterà di un appuntamento di altissimo livello. Sono 30 anni di storia di Barga, quella che fa il Barga Jazz con questo trentesimo anniversario. Sono 30 anni di crescita, 30 anni che una manifestazione come questa fa parlare di Barga in Italia e fuori all'Italia, perché è un festival internazionale. Quindi siamo davvero grati dell'organizzazione, del calendario che è stato presentato e sarà anche quest'anno una manifestazione all'altezza del passato e soprattutto all'altezza di questi trent'anni.